uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi il winterfest continua giorno per giorno a regalarci sempre nuovi regali che finalmente potremo ottenere e tenere nel nostro armadietto per sempre di fortnite davvero una bellissima iniziativa tra l'altro ci sono un sacco di domande da parte vostra che oggi voglio portare con una risposta ovviamente quale tipo di regalo ottengo dall'apertura di un pacco non vi preoccupate ragazzi che lo sapremo prestissimo ma parleremo anche nel video di oggi di alcune nuove skin che sono state scoperte proprio guardando il trailer del winterfest quello insomma il trailer celebrativo disponibile all'apertura del dell'evento stesso e ovviamente ragazzi una bella sbadilata di leaks parleremo anche dell'elfo come sempre per tenervi aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima volevo comunque ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale di utilizzare il codice xuderone e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video ma prima la domandina ve la devo fare comunque è un po' che non ve la facevo oggi è davvero molto semplice ma qual è la tua skin preferita di natale ce ne sono tantissime a partire da due anni fa l'anno scorso quelle nuove di quest'anno non sono neanche tutte segnate in questa immagine ma la tua più bella qual è scrivilo qua sotto nei commenti la mia personalmente è diventata lo school trooper natalizio mi piace tanto lo school però vestito da babbo natale è un qualcosa di meraviglioso sia bene si abbina anche molto bene al piccone che gli hanno dato ma anche ad altri picconi ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito allora rispondere alla domanda ecco qua come vedete la colorazione dei pacchi regalo che si aprono giorno per giorno nella casa dello schiaccianoci e se andiamo a dare un'occhiata quello viola avete il 50 e 50 di possibilità di trovare dentro un oggetto uno dei 14 del winterfest in quello viola ci si trova dentro il proprio mint pickaxe quindi il piccone con la carta da regalo intorno oppure il background musicale di mary chipmas perché la musica di natale in otto bit nel pacco dorato si trovano gli short blade slicer che sono praticamente le asce di pandi zenzaro doppie oppure holly ed ivy con trail quindi la scia di natale che ha tre stili personalizzati personalizzabili in quello pochettino più azzurro si trova invece la skin la wrap che si chiama well rapid non vi preoccupate la troverete sicuramente andando più avanti ci sarà un'altra skin un'altra copertura per le armi che è quella dedicata al 2020 e anche il deltaplano trifle quindi trifle alberi che cadono quindi il deltaplano quello simile al deltaplano base con i pini in poche parole con una versione animata vi ricordo che nell'ultimo giorno ci saranno le due skin che avevamo già visto e vi farò vedere dopo il regalo abbiamo lo snow shaker e mot nel pacchetto blu scuro oppure troveremo banner oppure loading screen quindi la schermata di caricamento penultimo pacco quello rosso si può trovare un'altra schermata di caricamento che si chiama the great crack up oppure un nuovo banner e per finire ragazzi il back bling del sit che se non ricordo male deve essere relativo a star wars quindi non vi preoccupate che tutti troverete i vostri regali e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e sono le due skin molti li avranno già viste chi non lo avesse ancora fatto eccole qua un è meravigliosa dai raga lui infrattato nell'albero di natale è veramente un qualcosa di epico da vedere c'è anche lei che non è altro che il mammut in poche parole come skin entrambe ci verranno regalate l'ultimo giorno quindi sicuramente un ringraziamento ad epic games perché ci sta facendo davvero dei regali molto molto interessanti e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi dovrebbe essere uscito vi dico dovrebbe perché sto registrando questo video prima dello shop di oggi ma nelle notizie il grande ritorno del pan di zenzero e della versione femminile non mi ricordo ma ginger si chiama lei se non ricordo male corredati del proprio piccone perché il pan di zenzero e ginger escono la prima volta due anni fa l'anno scorso hanno di nuovo fatto la loro comparsa con il piccone quindi il set completo non comprende purtroppo il deltaplano dovrebbero essere tornati proprio oggi e sarebbero se non ricordo male le terz'ultime skin di natale vecchie che mancano vi ricordo che ci manca ancora il crampus che non è arrivato ma dovrebbe arrivare un po più avanti e la principessa dei ghiacci insomma quella che sembra una principessa disney tanta tanta roba anche i pan di zenzero e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi il banner che c'è che state vedendo in questo momento è il banner ufficiale delle winter royal quelle che proprio iniziano oggi suddivise per tre giorni lo sappiamo benissimo si gioca in coppia 5 milioni di dollari il monte premio per ogni giorno perché vi faccio vedere questo banner perché è interessantissimo quello che c'è sotto al banner quindi vedete che ci sono delle skin c'è la versione dello schiaccianoci gialla c'è lo school trooper natalizio abbiamo la skin con la palla di natale e nella destra abbiamo una skin che avevamo già visto nella patch 11.30 o 20 non me lo ricordo che è la skin il robot natalizio ma se andiamo a zoomare e guardiamo nella parte scusatemi quello di prima nella parte sinistra nella parte destra notiamo una nuova skin che non è ancora stata pubblicata sembrerebbe proprio ovviamente a tema natalizio vista così io non credo che sia una skin che possa costare più di 800 v bucks riprendi in poche parole una default skin semplicemente con un outfit di natale e tra l'altro quindi molto carina voglio farvi vedere uno spezzone del video preso dal trailer di questo winterfest e come notate c'è un emote che ancora non è stata pubblicata ufficialmente stiamo ovviamente vedendo l'emote non è altro che l'emote dell'angelo della neve che si fa o meglio che i bambini facevano ti butti nella neve apri gambe e braccia e crei un angelo quindi aspettiamoci ovviamente anche questa nuova emote e siamo arrivati praticamente alla fine del video chiudiamo semplicemente con un'informazione sul polar legends pack il nuovo pack che sta per arrivare che dovrebbe arrivare prima di fine anno il 20 non me lo ricordo mi sembra proprio il 23 il giorno prima di natale la domanda che tutti ci poniamo è perché è presente nel polar legends pack la versione dell'elfo ci sarà l'elfo anche in questo pack è ancora una domanda ignota innanzitutto sappiamo che c'è la versione di operazione zabaione natalizia la versione di pesce secco ghiacciata il kattus come vedete là in alto che svetta con tanto di backpack nell'ex picco polare sarà presente un'emote dedicata a kattus e l'elfo con due backpack quello classico e quello di natale potrebbe arrivare ce lo fa quasi confermare queste immagini che vi sto facendo vedere siamo nei file di gioco dove nella sezione del delle skin del pack polar legends c'è proprio scritto holiday health e quindi ragazzi se andiamo a vedere anche l'immagine dice part of the polar legends pack magari è così spero che sia così anche perché io l'elfo non ce l'ho lo auguro ovviamente anche per tutti beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 su twitch ciao iscrivetevi al canale